Non ho capito perché mi sono portato 50 mila bottiglie d'acqua perché tanto mi aveva pedato un belino. Ma ti dà un partito di fianco? Cosa? No, non è altro. Anzi. Dai che se facessi rida il casco! Aspetta che filmo un attimo. Chi è? Il troiaio. Ciao. Ciao Mago. Avanti ai prossimi. Io non so com'è la strada. Ma che cazzo? È tutta a scendere? Oh mio guru, vai a fare in giù. C'è un peccettino di uno strappettino picco. Eh. Non so dove. Oh mio guru, vai a fare in guru. Andiamo a fare in guru. Norte cazzo. Eh, io. Vabbiamo a andare prima a peci qua. Chi? Ma non so se vanno giù. Anche. Un tipo. Enya. Un tipo. Un tipo. Grazie a tutti. Hop 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 hop. Va la ripetina eh? Sì. Però? Ma ti mettono anche un po' cagato. E che non sai nelle curve cosa c'è, vedi? C'è questo? Con frema dietro che non frena più là. No. Sei rotta? No, frena poco dietro. Ma perché tu sei un totale? Hop hop hop. Oh oh. devo farci un po' la mano con gli occhiali eh ma col sole vedi meglio si no vedere vedo bene però diversamente no 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 E' davvero che è peggio Minchia la ballo, minchia porto d'arrao Minchia sciò Minchia sciò Wow Bella Queste rampe ti spaccano Una bella Hop 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 gaggio E' forte Oh Oh Hop 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 Ah, e' di vista che di là? Di 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 Giù a scendere Oddio E' perchè E' perchè Si Si L'ho messo io così perchè no Mi si stacca Dovrebbe passare di sotto Ma mi si stacca Qua si va Ma te l'hai già fatta? No Ma come mai l'ho fatta? Perché? Si 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 oh io vado di qua eh sarà di qua si a 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 perché c'è un cartello io la strada non la so cos'era quel buco di fianco ah non ho visto un piccolo fortino non ho capito perché hai fatto il discesone con la ruota bloccata che vabbè niente salti il non è saltato non è saltato perché l'ho visto dopo credo che sia giù di si perché lì c'è però c'è un castello anche lì guarda lei di qua Maglio delle mura Ah, va bene andiamo giù Probabilmente è più corto di quello lì Che figo che è Brava via Occhio Sì direi giù di lì Ma 29 Hai visto come tarella con gli attacchi Andiamo va Tarellarlo Eh, non lo so perché non l'ho mai provato Eh, eh, eh Mi era sicurato ancora di me Eh, eh Già ce l'ho di più Sinistra ha detto Sinistra? Perché dobbiamo arrivare di là Ah, eh, eh Guarda Luca Filma Luca Filma Luca Ma vorrei sapere una cosa Di là Dovevo una forciera avanti messa su trail Eh E questo qua E questo qua era messo così su Su Climba Praticamente andavi con le ammortizzazioni chiusi Vabbè Se uno è bravo Eh, vero Eh Guarda qua Ma non lo venghi comprava già Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Porca troia. Se vuoi. Passo sopra la roccetta e mezzo. Il casco. Vai lascia. Il casco mi vieni. Muoro. No. 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 Cosa? Eh? Immagino che sia qua. Dovrebbe essere qua. Mi chiede che è caldo. Eh? Che è caldo. Eh? Solo il panorama. Cosa? Non sballo? Sì solo il panorama. No. Ha detto che è caldo. Ah. Il chilometri zero non abbiamo fatto di vedere. Mi è piaciuto solo il posto vicino là nel boschetto. Eh. Ma dove eravamo prima? Non si poteva scendere poi da quel sentiero là? Che va dietro alla casa matta. Ma hai detto che non l'hanno pulito. No. No hai detto che discenevi di là. Però hai detto che se vuoi scendere al campo di qua. Ok. Ciao Giorgio. Ciao. Come va? Caldissimo. Ah ti dai due albi adesso? Eh sì. No di là c'è un abbastanza. Cazzo che è caldo. Eh sì abbastanza. Ci manca solo la maschera poi che tiene ancora più caldo. Prosto? Eh? Scendiamo? Eh andiamo. Possiamo coprire le sosse. No. C'è tutto bombardato, tutto nero. C'è tutto bombardato. Non va le ginocchiere? Va bene. Mi scivano un po' sotto. Mettaci un po' di silicone. Me lo togli dalle tette. Dalle tette tutte tette. Cambia a marcia. C'è tutto bombardato. No. Vole i freni che si scaldano. Si scaldano i freni. Capito una matta? Ciuppa. si scaldano i freni dio ho le mani rotte come? come? guarda quelli la quelli? quelli la su guarda quelli di prima andiamo andiamo guarda tu guarda 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 dietro col culo come faccio a ripartire? sorprei parchi piano no 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 in Grazie a tutti. Ciao.